siamo nel bosco di sagolonia a durianova e noi siamo in mezzo agli alberi con una scherza illuminazione che è composta da questa lanterna e da questa luce quella la macchina che se ecco qua lo potete vedere che cosa cosa è successo che adesso vi eccoli qua pietre foglie e probabilmente animali sconosciuti che magari possono essere a un chilometro da noi come ad un metro è il giorno dei morti e noi siamo qui perché perché l'uomo è sempre attirato da queste strane storie di fantasmi paranormali cosa da quel rumore che c'è là dietro no me lo sono inventato ma l'hai sentito anche tu bene siamo messi bene no sta più vigilando adesso io direi che possiamo salutare la nostra amica diletta che sapeva bene che noi siamo venuti qui oggi così potrà vedere che non è successo niente almeno sino ad adesso che si fa saliamo non l'ho sentito no si si dove è venuto tu viene dall'altra parte della strada si si allora il rumore si è sentito da qui dietro questa rete insomma si tratta di un stai scherzando oh non fare cazzo rumore era te la posso oh dove stia andando no che cazzo stai resta qui oh no dove cacchio stai dai ma no ahio dai davvero però dai riaccendi quella cacchio di torcia ahio dai ma no ahio dai 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 ahio dai